Leopardi ha una duplice concezione della filosofia. Una è la concezione dell'intelletto illuminista che egli condanna perché sviscerando i corpi, scoprendo il velo con cui la natura si presentava originariamente allo sguardo degli antichi, scoprendo questo velo che doveva nascondere la natura e quindi mantenendo nel segreto la sua immagine, essi hanno snaturato l'uomo. Il secondo punto, la seconda accezione di filosofia è quella invece del colpo d'occhio. Leopardi ritiene che la grande filosofia sarà una filosofia che con il colpo d'occhio coglie tutta la complessità, la totalità del reale. Lui pone la questione della filosofia e della poesia come se fossero contraddittorie e non potessero in qualche modo convivere e coesistere fra di loro. La scienza, l'intelletto, la ragione hanno la responsabilità di uccidere le cose vive che essi indagano. Come allora coglierle nella loro interezza e nella loro vita? Leopardi indica il modello greco. I greci, dice, erano come dei fanciulli. Questa infanzia del mondo, diciamo, rappresentata dai greci, è una condizione edenica, felice, perfetta, nella quale l'uomo stava in armonia con la natura. E perché stava in armonia con la natura? Perché era capace di immaginare. L'uomo è capace di immaginare, dunque di illudersi, dunque di vedere la natura viva e coglierla nella sua vivacità. Di qui nascono le grandi passioni, di qui nascono l'eroismo, la vitalità, il sacrificio di sé, e tutta una serie di comportamenti umani che rappresentano per Leopardi la perfezione dell'individuo dell'essere, che così questo individuo sarebbe stato in armonia con la natura. L'immaginazione è ovviamente per Leopardi, come per chiunque, un elemento fondamentale della poesia, ma è anche, dice lui, un elemento fondamentale della filosofia. Quindi il nesso tra poesia e filosofia, Leopardi lo pone innanzitutto sul piano dell'immaginazione e dice che è solo l'immaginazione che permette di stabilire delle affinità con delle cose remote, che sono cose che non si somigliano e che di colpo, così come il poeta è in grado, attraverso una metafora, per esempio, di avvicinare due cose che nel senso comune non sono uguali, così il filosofo dovrebbe essere in grado di far questo. Come mai le civiltà mediterranee, che erano così importanti, eccetera, un tempo adesso sono così decadute e tutto si sviluppa nel nord Europa? Allora dice, è già perché abbiamo creato una filosofia che ormai è priva di immaginazione.